Sono dieci i medici dell'ospedale Cimino di Termini Imerese in provincia di Palermo, indagati per la morte di Miriam Battaglia, la 17enne ricoverata lo scorso marzo, e deceduta nel reparto di rianimazione del presidio ospedaliero dopo un ricovero di 24 ore. La giovane studentessa aveva accusato forti dolori allo stomaco poco dopo essere rientrata a casa dalla scampagnata di Pasquetta, trascorsa con gli amici, accompagnata d'urgenza al pronto soccorso con una tromboembolia polmonare, le venne assegnato un codice giallo poiché per i medici si trattava di un avvelenamento. Ulteriori ipotesi portarono successivamente i sanitari ad effettuare un controllo più approfondito con un'operazione al ventre per escludere un'eventuale peritonite, una diagnosi non corretta e che causò la morte di Miriam la mattina del 30 marzo. Per il Tribunale di Termini Merese, infatti, gli accertamenti medico-legali avrebbero consentito di ricondurre il decesso ad un arresto cardiorespiratorio per disfunzione multiorgano causata da una tromboembolia polmonare. L'inadeguato inquadramento diagnostico del caso, si legge nella perizia, ne ha compromesso l'esito. Una valutazione elettrocardiografica che venne a mancare per gli inquirenti avrebbe infatti consentito di rilevare il problema, somministrando così una cura adeguata che avrebbe salvato la diciassettenne. I medici dell'ospedale nel mirino della procura termitana dovranno ora rispondere della mancanza di un'accurata analisi e di un intervento che non doveva essere eseguito.